Abbandonato, imprigionato dalle reti metalliche del cantiere che impediscono l'accesso ai pedoni, ricoperto dal guano dei piccioni, uno dei quali è rimasto a terra morto per giorni a far bella mostra di sé, senza che nessuno dicesse niente, senza che l'Ulssi intervenisse, senza che le massime cariche in materia di salute pubblica effettuassero un sopralluogo davanti ad una situazione indecorosa che avrebbe dovuto forse mobilitare i vertici della sanità bassanese a partire dal DG Giorgio Roberti. Un biglietto da visita che da mesi accoglie i turisti grandi e piccoli che percorrono la passerella simbolo della città, ma non è solo questione d'immagine, davanti ad una simile situazione di sporcizia è anche questione di salute pubblica di cui, ad avviso di Rete Veneta, dovrebbe interessarsi anche l'Ulssi, magari direttamente il DG che da queste parti potrebbe fare un sopralluogo e sincerarsi di persona. Insomma, che il ponte se la passasse male lo sapevamo, ma preoccupare l'incuria. Come mai per settimane nessuno si è preoccupato di pulire oltre le reti metalliche? Di certo il guano danneggia l'immagine della struttura, basta alzare lo sguardo per vedere come sia la situazione tra le travi. Ma chi garantisce che l'unico rischio che si corre sia solo quello di sporcarsi le scarpe? Perché da queste parti ci passano anche i bambini e i piccioni, non portano solo sporcizia, ma anche malattie.